Oggi diamo il benvenuto a M&M su Mitalia, la 115esima azienda da arrivare su questo mercato. Un settore che è già rappresentato, sono già 15 le aziende del mondo digital che fanno parte del mercato Mitalia. Da quando è nato il mercato ha dato capitali per lo sviluppo, per le aziende. Tutte queste società che sono arrivate su Mitalia hanno come minimo, come un denominatore, proprio la crescita. Quindi un mercato che fa da volano, soprattutto per le PMI che hanno intenzioni di aggregare nuove realtà, di competere sui mercati non solo nazionali ma soprattutto internazionali. È un buon momento, dall'inizio dell'anno sono state già nuove le società arrivate su AIM. Un track record sicuramente interessante se pensiamo anche agli anni precedenti. Ci aspettiamo che la quotazione di oggi rispetto che anche quelle che abbiamo visto nei mesi precedenti possano supportare altre realtà a valutare nel mercato del capitale. Quante quotazioni vi aspettate entro l'anno? Circa una trentina, sicuramente l'AMM non sarà l'unica del mondo del web marketing o del mondo digital. Ce ne sono altre che stanno guardando con interesse questo mercato. Lo guardano perché è un settore decisamente frammentato. C'è bisogno di campioni come quella di oggi che hanno voglia di aggregare, che hanno esperienze, che hanno un managgimento strutturato. Quindi in bocca al lupo sicuramente AMM per il debutto. Speriamo di vederne altre.